Disagi di natura idrica lungo la discesa Trippo di Marianello che conduce all'omonima spiaggia. I problemi per i residenti sono rappresentati da una perdita d'acqua che al momento dell'apertura dell'erogazione allaga la discesa con conseguente dispersione di risorse idriche. È verosimile che qualcuno dei tubi sotterranei sia lesionato comportando la fuoriuscita di acqua. Sulla vicenda è intervenuto Gianluca Lobracco, residente nella zona. Ogni volta che aprono l'acqua continuano a scendere fino a arrivare al mare. È da quattro mesi che abbiamo questo problema, nessuno ne parla, ne viene. Non si prendono cura di una strada che dà sbocco sulla spiaggia di Marianello. A me dispiace perché io ho un'attività, non lo faccio attenzione per la mia attività. Ma è giusto che qua chiariamo le cose. Io ho un'attività e la strada però è comunale, non è mia personale. Se io vengo e intervengo è perché mi interessa il mio paese. Semplici le richieste da parte dei residenti che hanno chiesto in passato e continuano a chiedere tuttora la sistemazione dell'impianto di distribuzione. Io chiedo alla Gigente Acqua di provvedere per questa strada perché quando vengono, come vedete, la lasciano tipo in condizioni brutte. Il mando stradale è tutto brutto e chiedo il ripristino di tutta la strada di Tripodi di Marianello.